amici sportivi bentornati in un nuovo episodio incredibile costruttivo stupefacente epico di crash royale andiamo a spacchettare come vedete ho la valchiria potenziabile e penso proprio che me l'andrò a fare perché così facendo la porterò sopra di pensate un po di un livello valchiria un'altra volta ok adesso non mi serve più perché in teoria sì perché al 5 fa comunque ridere però mi sa che ce l'ha al 5 non lo so ok ora le rare dammi o le sfere di fuoco o non lo so il mega sgherro il mega sgherro domatore va bene questo giochino non capisco perché fa qualcosa ah sì ce l'ho al 5 la porto al 6 interessante allora sale sale di e pepe 1400 punti ferita danno ad aria 192 ok ok mega sgherro ragazzi guardate me ne mancano 3 mi mancano 3 per portarlo a l'altro livello vediamo che altro possiamo potenziare mi pare niente 7 ah 7 carte da prima ok questo ragazzi fornace al 5 al 6 al 6 però fa danno alle torri all'8 quindi io trovo solo livelli 9 e 10 quindi penso sia quanto inutile passiamo ah vediamo il negozio perché ci sono le doppie epiche come vedete mi sono comprato non so quando è valchire perché ora costa 340 quindi me ne sono comprato davvero troppe passiamo oh barile epico ma non mi serve mai passiamo al prossimo profilo amici signori eccoci passiamo al profilo di riun riun vai commenti commenti attenzione qua vai i cornutoni i cornutazzi i cornetti non li voglio sono vuoti non li ho tre carte oh la epica o qualche altra capica o la epica o la epica è ruba di 1 per al 4 questo chi gli facci 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 tante carte tante carte c'è sta carta comune uscita da da poco se non mille gioia ma non la potenza che cazzo ce l'hai all'uno ce l'hai vedete che mo qua ti riesce quando è quotato a zero ci vai a perdere i soldi due fornaci sette razzi 9 e 82 ho un culo come faccio al 4 ho due epiche che ti sono usciti in questa cs e vai inquadra i cornutoni che c'hai ma buono e 68 vorrei vorrei farvi vedere costui in che clan appartino il cocapo di questo clan sta a 5100 trofei e ha fatto sesto in classifica una volta con questo mazzo di ma ci rendiamo con questo mazzo di ma con una leggendaria c'è hanno fatto tutte queste leggendarie lui ne usa uno a voi con me a voi con me i cornetti i cornetti signori entrate nel mio clan che tra qualche giorno penso che cambierà non ancora abbiamo deciso il nome work in progress work in progress forse lo chiameremo proprio i motori e via parte vai passiamo a quello dopo al prossimo a quello dopo in realtà me le potevo comprare cioè in realtà quel barile non mi serve però mi serve solo se mi uscirebbero le streche perché io la uso la streca andiamo a vedere qua allora qua mi è uscito il toronco mi sono comprato un po di zappe per donargli agli ai calan compriamoci anche due di questi tanto non ti sa mai come uscito niente allora questo è il mazzo che sto usando ho fatto appena questo al 9 e sto a 3.200 3.200 onesto 80 di oro due razzi aspetta 36 minuti va bene così 10 sgherri buonissimi ragazzi gli sgherri mi sa che è la prossima carta che mi porterò su dai dammi una gioia in questo barile e son contento 7 barbari scelti 8 fornaci ok adesso no adesso non mi può uscire comunque niente perché mole comune mole quella gialla che mi dice ah no questa qua bocciatore oh 5 su 20 mi mancano 15 bocciatori per farlo al 5 al 5 spacca i culis allora mi hanno consigliato ed va vite non so se lo conoscete avete sentito parlare mi ha consigliato di farmi un mazzo allora ora vado a memoria mega sgherro questo signore qua poi questi mi pare aspetta non mi ricordo se mi ha detto no vabbè non lo mettiamo perché non mi ricordo se mi ha detto quello o quell'altro poi mi ha detto di fare lapide o cannone io preferirei fare di questo perché fa gli scheletrini e quindi mi da una mano non indifferente poi o questo o questo mi ha detto se questo me lo faccio al 5 ci metto questo ma per il momento metto questo poi una carta molto importante cimitero al 2 e le altre 3 non me la ricordo allora un attimo che lo vado a vedere alla zap sicuro quindi due carte mi mancano però non me la ricordo un attimo quello che lo vado a vedere ma si gli arcieri mi ricordo che mi ha detto sicuro gli arcieri allora queste carte qua sono tutte sicure a parte questo che non mi ricordo se mi aveva detto allora non mi ricordo se mi aveva detto di mettere questi oppure oppure questi però questi mi sa di no o minatore può essere minatore per togliere perché in questo momento se mi mettono l'estrattore come lo tolgo o una struttura quindi potrebbe essere o minatore oppure palla di fuoco non mi ricordo l'ottava carta se doveva essere la palla di fuoco il minatore o questi allora per il momento facciamo così allora per il momento facciamo di questo 3.4 questo potrebbe essere un mazzo interessante perché se mi mettono gli sgherri quelli da 5 ci metto questo e questo e se ne vanno gli sgherri normali stessa combo poi gli scheletrini quelli tanti c'ho questo per il mega sgherro c'ho questo più questo però potrebbe non morire che mi serve almeno questo all'8 e questo all'11 per far morire questo all'8 penso se lo trovo al 9 poi questi all'11 il prima possibile se devo usare questo mazzo e comunque le uniche carte buone che ho adesso in questo mazzo sono 1 e 2 perché al 9 e al 2 ce l'ho il resto questi al 7 non mi convincono comunque bel mazzo con 5 5 rare però io adesso non mi ricordo se mi aveva detto questo oppure questi non me lo ricordo in questo momento comunque ragazzi è stato di fatto che questo mazzo lo proverò 4.4 porco 2 lo proverò ma nel frattempo continuo ad usare questo andiamo a vedere sì passiamo al prossimo eccoci tornati in questo nuovo profilo di fanfera che sarei io allora abbiamo questi bauli sono salito a 3700 coppe con questo mazzo come potete vedere con questo mazzo vi spoilerò il mio mazzo perché è una bestia con scritto reggente e clonazione è una bestia una bestia salutiamo tutti gli amici del clan siamo molti di più entrate nei gommisti e connessione di merda ok e vabbè andiamo a spacchettare sono da due uri torre bombarola e spiriti del fuoco vabbè un'amberta poi 74 di oro mini pecca non mi serve un cazzo e uuuu sgarri tra poco al livello 11 baule omaggio baule omaggio vediamo un po' oro mega sgarro mi serve e barbari col cappello con l'elmetto allora oro 87 ma ormai 3 carte ma mini pecca 1 mi serve un cazzo per il fuoco mi serve un cazzo baule della corona 532 3 gemma 3 gemma una palla di fuoco non serve una biancchia 30 barbari col cappello non serve un cazzo e tesle che non le usa nessuno e stregone verrà potenziato nel prossimo aggiornamento giusto stregone velocità colpi migliorata da 1,4 per 1,6 secondi attacchi in sezzo cioè una bestia non che lo potenzio è una bestia e vabbè qua c'ho il droga infernale che potrei comprare ma non c'ho voglia di shoppare 1600 gemma e cioè 15 euro non ho proprio voglia qui vabbè salutiamo davide claudio adrem eduavit eduardo eduardo un mito eduardo poi claudio bisio giassigno siamo una frega di 3000 coppe qua ma io resto sempre secondo secondo solo a davide il migliore del clan il migliore del clan e vabbè detto questo vi saluto e ci vediamo con il prossimo appuntamento di domani alla solita ora ciao